bene siamo live ciao Andrea ben trovato ciao aspettiamo un po' che le persone entrano in diretta così intanto vediamo di condividere un po' la anche noi tutta la diretta nei nostri canali c'è sempre qualche minuto innanzitutto dove ti trovi in questo momento Andrea? a casa come negli ultimi come negli ultimi come negli ultimi mesi sono sono qui a casa sono nel mio nel mio ufficietto che devo dire è nato è un ufficietto nato negli ultimi negli ultimi mesi perché prima non non esisteva qua perché comunque ero sempre ero sempre in giro perciò in questo momento in questo periodo mi sono stai attestendo eh sì 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 però devo dire che eh tra le tante difficoltà è stato un periodo dove ho anche diciamo creduto in diverse cose e e anche diversi cambiamenti eh forse la scelta che avevo fatto nel nel coltivare anche vari vari rami no oltre la tante o insomma si sta si sta si sta tramutando insomma in una scelta vincente poi penso sempre che le cose si normalizzeranno ma non sarà non sarà immediato ecco non sarà immediato. eh vedremo 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 eh ma innanzitutto do il via ufficiale alla alla diciamo all'intervista perché abbiamo atteso qualche minuto affinché le persone potessero entrare già stanno arrivando i saluti che ci saluta Elisa Semeghini che credo che conosca entrambi a questo punto perché sì che la salutiamo eh grazie Elisa del tuo del tuo messaggio. Allora eh eh quinto incontro del ciclo evasioni eh evasioni è un diciamo è un ciclo che così ci siamo ci siamo inventati nel periodo del del lockdown dove tutti volevamo evadere e abbiamo ragionato sul fatto che insomma si può evadere in tanti modi ecco non solo fisicamente anche mentalmente ma soprattutto che per evadere ci vogliono delle risorse e quindi è con grande piacere che così do il benvenuto nuovamente ad Andrea già le ho dato prima ma adesso insomma è un benvenuto ufficiale Andrea è una persona che è straordinaria adesso poi avremo modo di conoscerlo bene io noi ci siamo conosciuti l'anno scorso infatti ne stavamo parlando prima in occasione di un team building un po' particolare con dei ragazzi molto giovani peraltro che abbiamo portato in montagna due giorni che un po' ci hanno maledetto l'inizio ma poi alla fine secondo me erano molto contenti poi se vuoi avevano un bel passo avevano un bel passo devo dire ma guarda mai come te mai come te mai come te poi non sempre la davanti io ricordo ne parleremo ne parleremo allora Andrea Andrea insomma è un atleta ma non è solo un atleta è molto di più è un atleta parolimpico poi ci racconterà anche un po' la sua storia ma Andrea è una persona che a un certo punto è evasa ed evasa fortemente questa evasione che è ancora in corso è un altro latitante io sto intervistando dei latitanti persone che a un certo punto hanno preso un certo tipo di decisione hanno rotto certi schemi nel caso di Andrea è anche violato nei luoghi comuni se vogliamo poi ce ne parlerà e sono ancora a spasso e quindi un po' dalla sua latitanza girando attorno a metafora dell'evasione lo stiamo incontrando Andrea per chi non ti conosce vuoi raccontare un po' di te quello che ti va quello che vuoi raccontare molto molto volentieri intanto ti ringrazio Luca di questa intervista di questa diretta perché è sempre un piacere poter condividere insomma l'esperienza perché credo molto credo molto nell'importanza dell'ascoltare la storia della vita delle altre persone da cui si può prendere insomma anche vari spunti ed è anche un anche il filo conduttore tante volte delle mie delle mie esperienze che poi come tutte le esperienze si commettono anche degli errori ma l'importante è quella quella che arriva dopo migliorarla e il cammino che poi arriveremo di quest'anno il fatto di raccogliere più storie possibili in questi 900 chilometri è uno dei punti miei fermi perciò grazie mille della dell'opportunità io abito in provincia di Cremona ho quasi 47 anni dico quasi perché in alcuni articoli scrivono già che non ho 47 ma io non ho 46 e niente sono sono timisti no ti vedono che il prossimo anno quindi e sì sono coach mi occupo di formazione un lavoro è un lavoro bellissimo soprattutto di crescita personale sulle competenze trasversali perché vado a lavorare non direttamente su quello che sulle competenze delle persone ma appunto queste queste soft skills che mi piace lavorare molto sulla persona perché penso che ogni ragazzo lavoro anche con i ragazzi ogni imprenditore ogni professionista qualsiasi sia il suo livello il livello che ha raggiunto andando a lavorare sempre più in profondità può tirare fuori ancora qualcosa di lui perciò mi piace questo lavoro lo ritengo il lavoro più bello del mondo perché quando si intraprende un percorso di crescita personale si intraprende un viaggio che durerà per tutta la vita o almeno fino a quando fino a quando uno decide di fare questa crescita e il fatto di lavorare con altre persone intraprendi altri viaggi no perciò è un lavoro bellissimo io ho fatto un incidente all'età di 17 anni in un momento della mia vita estremamente estremamente felice dove lavoravo con mio padre avevo la moto dei miei sogni avevo una vita sociale bellissima praticavo di vita sportiva in una frazione di secondo tutto è cambiato fatto un frontale in sella mia moto contro una macchina e terminato lo scivolamento il primo pensiero è andato la mia moto poi quando è finita la scarica di adrenalina ho cercato di alzarmi e non sono riuscito ho guardato come mai a parte il dolore pazzesco mi sono accorto che da metà coscia dalla parte sinistra non esisteva più la gamba perciò momento difficilissimo per me per tutta la mia famiglia da cui abbiamo dovuto reinventarci totalmente una vita io sono tornato scuola e ho finito un piccolo percorso di studi e da lì poi è iniziata tutta la mia tutto il mio la mia carriera insomma diciamo così qual è stata la cosa più difficile andrei ricordando quei momenti o immediatamente dopo quando hai cominciato un po ripensare al futuro qual è stata la cosa più difficile più più complessa che ti ricordi? ma allora innanzitutto bisogna sottolineare un aspetto importante parliamo del del 1990 perciò torniamo indietro proprio quest'anno torniamo indietro 30 anni perciò queste dirette non c'erano non c'erano l'intere non c'era in televisione gli esempi che anche con una gamba puoi comunque ottenere dei risultati importanti tutto il discorso delle parolimpiadi era appena appena iniziato perciò chi era colpito da una difficoltà come la mia non dico che era lasciato a sé le famiglie non avevano nessuna base ma ci va poco vicino perciò la cosa difficile e la parola che entrò nella mia vita era impossibile era veramente l'immaginazione era impossibile pensare ad avere una vita normale avere un lavoro avere una famiglia ritornare a un'attività sportiva in quei sei mesi di ospedale tutto 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 sembrava possibile e il fatto che non lo fosse faceva poca la differenza perché poi ho imparato che tutto quello che fa differenza è quello qua dentro cioè se tu ti convinci che una cosa è impossibile che non la puoi fare eccetera quella realtà che ti costruisci nella tua testa diventa poi la tua realtà anche fuori e quello è stata la mia condizione almeno almeno per un anno ma a proposito di coaching in quei sei mesi c'è stato qualcuno che ti ha detto qualcosa ti ha detto una parola una frase che un po' o io non so qualcuno che magari ti ha fatto scattare un click allora no quel click lì non è non è scattato allora io non mi sono mai rivolto a nessun professionista e e qui tiro in un certo senso eh l'acqua contro no al mio al mio mulino eh oggi mi sento ma non perché lo faccio per lavoro mi sento di consigliarlo di rivolgersi a un professionista perché ti permette di bruciare le tappe e soprattutto è molto meno rischioso nel senso che io oggi ho letteralmente abbattuto quel muro di difficoltà ho letteralmente superato la mia eh la mia disabilità perché in tantissimi anni ho lavorato su quella parola della diversità e la disabilità per me oggi la normalità è vivere con le mie due stampelle e vivere la mia gamba però è servito tanti anni tanti momenti down e se in quei momenti lì non hai le leve motivazionali giuste che ti portano ad uscire a continuare a continuare a continuare può essere molto pericoloso e l'unica eh vabbè ti dicevano dai su forza ma non è quella lì la motivazione cioè non è quella lì veramente la scintilla che ti fa scattare e dal punto di vista sportivo e io ci so prima quando l'hai detto eh in un certo senso sorriso perché eh l'unica ragazza che praticava sport fu una ragazza che aveva ahimè anche a lei avevano puntato la gamba e lei andava a cavallo no? e mi disse dai Andrea non preoccuparti vedrai che riuscirai comunque ad andare a cavallo e la frase entrò ma è uscì istantaneamente perché ecco perché la motivazione perché noi non siamo dei motivatori perché anche l'altro giorno io lavoro con le squadre l'allenatore mi dice qual è la frase motivante non esiste la frase motivante ognuno di noi siamo un universo a sé e il nostro lavoro è scoprire per ognuno di noi la motivazione cioè il fatto di andare a cavallo a me non mi aveva toccato nemmeno di striscio perché non andavo a cavallo prima non mi interessava non ho legato nessuna emozione nessuna sensazione positiva al cavallo e io mi dissi qual era la mia leva motivazionale qualcuno che mi venisse a dire guarda che per dire tornerai ancora in moto oppure andrai ancora in canoa sul tuo fiume a toccare l'acqua a sentire il freddo sentire il caldo a coricarti sulla sabbia sudare allora quella lì sì che era la mia motivazione ma in quei sei mesi lì Luca non ci fu nessuno e la motivazione me la trovai pian pianino pian pianino da solo grazie 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 a 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 gra punto di vista che quando faccio anche i miei corsi mi piace sempre utilizzare la metafora del muro perché è formato da mattoni e i mattoni di questo muro a mio avviso non sono altro che le azioni che noi personalmente compiamo per superare la nostra difficoltà e una cosa che mi piace sottolineare quando intendiamo difficoltà non è la difficoltà di Andrea che ha perso una gamba, ognuno di noi ha la propria difficoltà, in questa difficoltà ci sono tanti mattoncini o pochi mattoncini ma che se vogliamo superarla in qualche modo dobbiamo compiere qualcosa, dobbiamo fare qualcosa per superare la nostra difficoltà e quando io sono salito per la prima volta viene ancora la pelle d'oca di avere battuto metà di quel muro, non tutto, ma perché è stato importante perché se prima quel muro era alto, insuperabile e non mi dava la possibilità di vedere dall'altra parte in questo momento io avevo ancora la mia difficoltà ma riuscivo a vedere dall'altra parte e non è stato l'inizio ok vado le olimpiadi, vado in India, vado a fare le avventure che poi ho fatto nella mia vita, no è stato solamente individuare, capire dove era in quel momento la mia asticella, in quel momento lì qual era il mio limite? Il mio limite era che nella mia testa non riuscivo più a fare nulla, se prima era scontato andare in canoa in questo momento era impossibile, perciò non ho pensato alle olimpiadi, ho pensato di ritorno pian pianino a fare le cose che facevo prima con due gambe, perciò proprio un passettino alla volta e quando sono salito su quella canoa ho detto allora aspetta un attimo, ma fino a un secondo fa era impossibile, adesso in un secondo, in due secondi quando mi sono lasciato dalla zatera ho impugnato la pagaia anche con la mano destra, due movimenti e il mio corpo ha trovato immediatamente l'equilibrio anche se dalla parte sinistra mancavano dieci chili, allora non è proprio così tutto impossibile e ti dico lì metà della mia disabilità sento proprio dentro di averla superata, poi dopo per togliere tutti gli altri mattoncini è servito tempo, è servito tempo. certo e sei arrivato alle olimpiadi? No, allora non sono mai arrivato né a Londra 2012 nel ciclismo e nel 2016 nel triathlon, nel 2012 ci potevo andare ma non ci sono andato e chiudo la parentesi, nel 2016 ho rinunciato ho rinunciato alle olimpiadi perché il triathlon, nuoto, bici e corsa, io corro con le stampelle perché non indosso la protesi, mi stava compromettendo in modo molto serio la schiena, allora siccome per me lo sport anche se molte volte forse hai passato da non riuscire a fare nulla a tentare ad andare alle olimpiadi con il triathlon sì con il triathlon sì e poi e poi parlando di olimpiadi ma penso di avere dal punto di vista mentale e fisico penso di avere fatto delle cose ancora più ancora più estreme ecco perché cose molto diverse ecco perché per raccontarsi Andrea perché sì perché anche queste qualificazioni sono arrivate queste non qualificazioni sono arrivate anche un po' a monte della mia chiamiamola discontinuità no perché non facendolo come lavoro e ascoltandomi molto per proprio come le esigenze di quel momento mi piace anche godermela no e perciò nel 2010 quando avevo capito con la squadra si era capito che non non c'era più insomma possibilità di dare olimpiadi è nata un'opportunità che ho preso il volo è stata quella di percorrere la strada carrozzabile più alta del mondo che è in india sono 700 chilometri che ho percorso in mountain bike assieme a un compagno di viaggio che abbiamo percorso questi 700 chilometri dove non siamo mai scesi sotto i 3500 metri di quota abbiamo superato quattro vette da 5.000 con la mountain bike ovviamente con sacchiappelo fornellino eccetera e alla fine 60 chilometri di salita per arrivare sul cardongla che è posta a 5.602 metri ed è la vetta transitabile più alta del mondo e fino a quel momento qual era la sfida? è che fino in quel momento ma adesso sono passati altri 10 anni non esiste testimonianza a livello globale al mondo che mai nessuno oltre a chi avete davanti ci sia riuscito questo per non perché sono un fenomeno per far capire per far capire che è stato un obiettivo difficile molto stimolante dove è stato complicato è stato molto complicato ci sono riuscito e che mi ha poi aperto il mondo della formazione mi ha aperto il mondo della crescita personale e di queste avventure dove non ti alleni per un'ora un'ora e mezza ma sta in bici per 8 9 10 ore con il fango devi scendere perché magari ci sono devi attraversare degli uscelli quando arrivi devi farti da mangiare devi piantare la tenda la mattina devi rimettere tutto movimento dove sei impegnato tanto e mi ha formato mi ha proprio abbattuto tante barriere culturali mentali dove anche questi cammini che sto facendo ora per me tante cose anche l'altro giorno mio amico è lungo da raccontare però ci siamo allenati alla fine mi ha detto Andrea tu ti sottovaluti troppo non è il fatto che mi sottovaluti però ammetto che tante volte le cose tante cose che faccio oramai per me perché mentalmente sono proiettato ad alzare sempre di più la mia sticella perché mi tiene mi tiene motivato che dimentico no che magari vado anche a fare cose un po extra ordinarie ma non perché sono fatte da una persona straordinaria infatti una definizione che mi piace molto è la definizione del guerriero che poi tra l'altro nei prossimi giorni sui miei canali uscirà anche una bella sorpresa perché il guerriero non è il supereroe il superman della situazione il guerriero è quello che ha bene in testa dove vuole andare e tutti i giorni lavora combatte lotta supera le difficoltà per pian pianino andare sempre più in alto e questa è un po la mia la mia filosofia insomma cercare di sempre di capire il limite stando attento perché poi c'è tutto il movimento no c'è più tu sali no in alto come la qualificazione dell'olimpiadi vuoi fare un cammino in mille chilometri vuoi fare chissà che cosa se poi non ci riesci più vai in alto e più cadendo ti puoi anche ti puoi anche far male no però io a questo a questo concetto di andare sempre più in alto leggo anche il concetto della mia vita no di magari soffri tanto perché non riesci a raggiungere gli obiettivi però quando gli obiettivi che raggiungi hai delle emozioni molto forti no cioè io immagino una vita molto dove uno dice io mi accontento però il fatto dell'accontentarsi secondo me ti priva anche quella l'emozione di vivere di vivere emozioni molto forti no e forse perché in quell'incidente quando prima non l'ho detto perché molte volte vedi che mi dimentico il mio cuore si era fermato per 50 secondi io sono già stato morto no diciamo per quasi quasi un minuto e io la mia vita la voglio vivere la voglio vivere forte la voglio vivere intensamente la voglio vivere anche a volte andando contro anche alcuni alcune difficoltà alcuni alcuni pericoli però devo dire stando sempre molto molto attento ecco non faccio mai cose anche il fatto del cammino per correre mille chilometri a piedi non la vedo una cosa pericolosa anche dal punto di vista anche l'altro giorno mio amico mi ha detto cavoli ma come fai ma dal punto di vista articolare muscolare per la schiena hai sentito un esperto io ho detto no che non sento l'esperto perché l'esperto mi dici di non andare perché non è umano perché non è umano Luca fare mille chilometri con una gamba ma dietro a quei mille chilometri non c'è l'incoscienza di uno che parte a fare mille chilometri ci sono innanzitutto 42 anni di attività sportiva e non è banale perché sono 42 giorni poi ci sono anche queste imprese ci sono l'impresa del peru che è riuscita la parigi baris parigi dove ho fatto 1200 chilometri in tre giorni una preparazione che mi ha portato a conoscere il mio corpo in modo importante cioè ci sono 12 anni almeno di allenamenti molto particolari molto con molto sacrificio che le sconfitte delle olimpiadi che è vero che non sono andato alle olimpiadi ma gli allenamenti per andare alle olimpiadi il mio corpo li ha vissuti comunque e da quegli eventi lì ho tolto la parola fallimento e cambiandola con insegnamento che da un punto di vista della metafora come vi dicevo prima il fatto di più alziamo i nostri limiti e più se sbagliamo cadiamo ci facciamo male il fatto di avere tolto il fallimento e averla sostituita con insegnamento mi dà questo materassino a modi salto in alto o salto con l'asta che non mi faccio male mi dispiace perché comunque non andare alle olimpiadi sarà un'emozione che non potrò vivere ma allo stesso tempo dico ok cosa ho imparato e tutte queste esperienze arrivano anche da tutti quegli allenamenti che purtroppo non mi hanno permesso di andare e di andare alle olimpiadi Sì per certi aspetti la meta è bello ovviamente è bello raggiungerla perché quando ti dà un obiettivo come dicevi tu raggiungerlo è meraviglioso ti dà emozioni fortissime dall'altra parte è anche vero che la meta è un po' una scusa anche per il viaggio le cose che tu stavi dicendo se io penso all'olimpiadi alle quali non hai partecipato probabilmente per partecipare il pezzo che tu hai fatto per arrivarci come dice tu è stato un percorso anche di crescita dove hai appreso cose che oggi ti servono per fare altro sì tieni conto che perché sai dopo devi anche riconoscere un attimino io potevo quasi andarci però vabbè voglio chiudere il discorso però c'è anche da dire che fino io sono stato io ho cominciato andare in bici nel nei primi giorni di luglio del 2007 nel 2008 ho fatto quattro gran fondo e che a quei tempi era un obiettivo molto sfidante fare 90 100 chilometri con una bici e nel 2009 aprile sono stato sbattuto nelle gare internazionali contro io la prima gara che ho fatto in Francia avevo di fianco chi aveva vinto il campionato del mondo chi aveva vinto le olimpiadi chi era arrivato secondo e io mi sono detto ma avevo una bici di carbonio da 500 euro delle ruote ma io ho detto cosa cosa ci faccio io qua in mezzo però c'ero cioè la vittoria lì è stata che lì c'ero vuoi con una sorta di incoscienza vuoi con il fatto comunque di provarci e lì impari lì cresci perché non dici eh ma no aspetta che vado a vedere chi c'è ah no questo vinto le olimpiadi questo no ci vado ci vado e questo crea un'abitudine che anche il dire allora aspetta con una gamma e due stampelle fare mille chilometri partire dalla valle d'aosta ci sono gli appennini c'è la Toscana c'è il freddo c'è il caldo c'è il sudore sì ma quanto c'è poi di tutt'altro allora dico prendo un foglio prendo una birra io amo scrivere tutte le persone che io seguo come coach io li obbligo a scrivere perché è difficile iniziare ma quando dopo una settimana un mese o due ti trovi tutta la roba che hai scritto è tutta un'altra cosa allora dico quali sono le difficoltà cerco di superarle di sistemarle e e poi mi accorgo che i mille chilometri posso farlo ma se comincio a trovare più le difficoltà che quelle che della fattibilità di poterlo fare diventa tutto più tutto più difficile e poi ricordiamoci che quando noi raggiungiamo il nostro obiettivo poi tutto finisce quante volte quante volte le persone sono venute da me e poi parlando lavorando eccetera perché poi mi servono anche reperire no delle informazioni cavoli gente per esempio che è riuscita a avere a ottenere la laurea cose che io non ho e che sarebbe un bel obiettivo da raggiungere che le vedi che non sono nemmeno contenti quando vedevo per esempio io che arrivavo arrivavo alle gare quindicesimo ventesimo decimo loro erano sul podio boh non li vedevi soddisfatti allora il mio pensiero era o chi ci sei arrivato senza senza approfondire in modo non tanto pulito onesto o altrimenti non ti stai godendo il percorso cavoli sei sei su un podio e perché dico questo perché io quando sono andato sopra quella vetta poi c'è anche sul mio canale il video che si chiama india 2010 quando ho raggiunto quella vetta 5.600 metri io ho cominciato a piangere un'ora prima ma a piangere ma in modo veramente da come un bambino cosa che lo sport lo facevo già da 30 anni ma non mi aveva mai regalato emozioni del genere perciò va bene pensare all'obiettivo e poi qua c'è tutto il discorso delle visualizzazioni eccetera ma la cosa più importante è godersi il viaggio ogni ogni singolo passo che facciamo e più andiamo a scrivere e in più lasciamo traccia di quello che facciamo e più capiamo e ci ricordiamo anche di quello che abbiamo fatto per arrivare a quel momento perché molte volte il fatto di non scrivere cos'è che che implica il fatto di dimenticarci di quello che eravamo una settimana un mese due mesi prima perché nel nostro cervello cancelliamo il fatto che non avevamo non eravamo capaci di fare una cosa poi la impariamo e da lì ripartiamo ma è giusto anche come per esempio nel mio caso la mia prima gran fondo quando mi chiesi e mi mi posi l'obiettivo voglio partecipare a quella gran fondo il fatto di fare 70 chilometri era il grande obiettivo era il grande obiettivo e c'era l'incertezza di dire ma riuscirò a farla o non riuscirò a farla e ricordarsi di queste cose tante volte nei momenti di sconforto di demotivazione ricordarsi da dove siamo partiti o anche di quello che non riuscivamo a fare due mesi prima ci dice ah no piano un attimo mi sono allenato oppure ho studiato mi sono impegnato ho perso tre notti per studiare ho ottenuto questo miglioramento e questo ci può servire assolutamente stavo pensando a questo allora avevo due cose in testa che ti voglio domandare la prima è questa tu incontri diciamo per mestiere tutti i giorni no vieni chiamato anche dalle aziende e dalle persone per così per avere un aiuto un aiuto no nel crescere nel sviluppare certe cose nel riscoprire anche le proprie risorse se tu dovessi dire una barra due cose che ritrovi nelle persone c'è cosa che ci blocca cioè quando tu lavori sulle persone quale se quale è quale qual è il blocco più ricorrente che che trovi che è notato anche se so che le persone sono tutte diverse anche io nel mestiere però allora ma una una uno uno non c'è ti posso dire nell'insieme quando faccio le mie quando faccio le mie attività è che secondo me è uno di quei dettagli perché io amo amo i dettagli sono convinto che il fatto e lo sottolineo questa cosa per chi magari ci sta ascoltando andrà a curiosare un po che andrea toglietevi dalla to da testa che andrea con una gamba è un supereroe straordinario eccetera io gran parte del fatto di essere riuscito a fare cose particolari è il lavorare sui dettagli e questi dettagli per esempio sono il fatto dell'ascoltarsi il fatto del rispettare il nostro corpo di quello che di quello che mangiamo di quello che beviamo del fatto della della anche della della meditazione il fatto che questa scatola qua è quella che ci porta in giro cioè se noi studiamo abbiamo le competenze ma non coltiviamo quello che c'è dentro non non beneficiamo cioè mamma molto banalmente anche per dire quando partiamo la nostra giornata con una con la colazione cioè noi non possiamo pensare di bere un caffè a colazione e poi andare avanti una giornata a pieno ritmo con tutta l'energia non è non è che se lo beviamo caffè non arriviamo sera ci arriviamo comunque ma posso garantire che ci perdiamo un qualcosa quel 5 quel 5 10 per cento di quello che abbiamo già dentro di noi che se lo mettiamo in campo tutti i giorni può farci fare una differenza importante e tante volte non è la 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 cosa non sono le nostre competenze ma sono a mio avviso i libili le barriere le barriere mentali cioè il fatto di quello che noi pensiamo i nostri i nostri pensieri il fatto di concentrarsi su quello che dicono le altre persone eh di noi tutti questi pensieri tutto questo dialogo interno no che noi continuiamo a parlarci che ci intasano la testa e non lasciano lo spazio per i pensieri che no infatti c'è guarda ti ho introdotto solo per questo perché intanto saluto francesco che ci sta salutando ed Elisa ti chiede questo perché stava proprio questa cosa qua eh tanto dice che è assolutamente d'accordo con il tuo pensiero e ti chiede ma come gestisci i pensieri dei motivanti quindi più o meno siamo in quella direzione no che che stavi affrontando come come dire quella roba lì allora eh devo dire che un po' a livello inconscio cioè quando prima di entrare in tutto quel mondo qua della la crescita personale della formazione eh e poi è stato anche questo no che mi ha convinto poi iniziare perché comunque i trainer mi chiamavano negli incontri per portare la mia testimonianza un po' per le per le avventure che facevano perché non avendole mai fatte nessun altro amputato qualche segreto tra virgolette c'era sotto no e poi anche per come avevo superato la mia disabilità e io andando un po' analizzare perché è un lavoro che mi piace molto fare no capire i passi che ho fatto per arrivarci un po' ci ero già arrivato ad abbandonare tutti questi pensieri dei motivanti poi dopo ovviamente leggi libri studi pratiche eccetera io oggi sento veramente che non li definisco più pensieri dei motivanti molto raramente ho un pensiero molto emotivante e se ho un pensiero emotivante cerco di capire uno di dargli un nome nel senso di individuare qual è quel pensiero demotivante e poi trovare come posso superare quella quel pensiero demotivante e e questo richiede un lavoro ecco perché molte volte anche nel coaching parliamo di allenamento mentale perché ricordatevi che non esiste il coach che ha la sfera magica si chiama mente al training perché si tratta di allenamento mentale come eh nello sport nello studio eh la laurea i titoli di studio ehm diventare bravo in una certa attività è servito tempo ma questo tempo passa anche relativamente veloce perciò dobbiamo imparare a canalizzare bene i nostri pensieri e soprattutto mettersi sulle spalle la nostra responsabilità cioè io sono convinto che il 90 per cento delle cose che ci accadono o il fatto di superare le nostre difficoltà dipende dal 90 per cento da quello che facciamo noi ogni ogni giorno perciò concentro la mia attenzione a quel 10 per cento o concentro eh la mia attenzione su quel 90 per cento del del cosa posso fare io per superare quei o anche del come posso farlo io generalmente mi mi concentro su quel 90 per cento assumendomi anche le responsabilità e e da qui cambia cambia un mondo perché poi tutte le cose che poi arrivano di positivo nella tua vita è vero che hai la famiglia hai la moglie il marito hai la squadra il preparatore però sei tu che in ogni in ogni ogni giorno decidi di metterti addosso il tuo zaino e dire ok io ragazzi voglio andare là e devo fare questo 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 poi dopo si chiede anche il supporto delle persone perché anche il cammino che andrò fare le mie avventure io ho tagliato il traguardo io ho raggiunto la vetta io ho prodotto le mie stampelle in carbonio e dietro c'è una squadra straordinaria ma la squadra straordinaria esiste se chi la guida è a per primo ecco perché con le persone con cui lavoro mi piace formulare il cosiddetto in modo tecnico obiettivo ben formulato perché quando parlo con la mia squadra sono io che tengo acceso sempre il fuoco dopo loro lo alimentano ma non sono una persona che aspetta gli altri per da per alimentare il fuoco del mio obiettivo no devo essere io il primo e quando tu sei il primo là davanti che poi sostanzialmente mi piace molto creare una tavola rotonda di mettere il fuoco in centro e tutti buttano la propria la propria competenza la propria abilità per alimentare questo obiettivo perciò per 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 demoti per abbandonare un po questi pensieri demotivanti ci sono anche delle delle strategie che molte volte come detto prima sono proprio e nostro abbandonare il nostro dialogo interno cioè quando c'è questa vocina e che abbiamo dentro di noi cercare di abbandonarla perché nel 90 per cento di casi fa solamente dei danni sì anche più del 90 per cento probabilmente sì senti andrea ma per te cos'è il coraggio perché tu hai fatto delle cioè hai fatto delle cose pazzesche quindi e suppongo ma un po ne parlavo anche prima che prima di partire qualche tremarella ti venga no di fronte a certe di certe condizioni e cos'è il coraggio per te il coraggio per me dopo intanto saluto anche joe black che leggo due pensieri bellissimi che ha scritto il coraggio è una risorsa che è tra le 22 risorse che porto generalmente negli incontri di formazioni quando parliamo di risorse e soprattutto che porto ai ragazzi nelle nelle scuole perché il coraggio come tutte le risorse non è che non l'abbiamo o l'abbiamo noi tutti abbiamo le risorse la difficoltà o il primo passo sta riconoscerlo dentro di noi riscoprirlo dentro di noi attraverso episodi eventi azioni dove l'abbiamo già messo in atto perché tutti abbiamo messo in atto visto che stiamo parlando del coraggio parliamo del coraggio in questo momento tutti abbiamo compiuto atti di coraggio dal momento che l'andiamo a riscoprire sappiamo che il coraggio è dentro di noi e non è che ce l'abbiamo abbiamo già riempito il serbatoio del coraggio no noi non dimentichiamoci che siamo unici ed irripetibili ecco perché molte volte il lavoro di coci e del formatore è complicato perché siamo siamo unici siamo e mi piace molto perché individuare un viaggio dentro di noi perché siamo infiniti non è diciamo sopravvalutarsi quando diciamo siamo al centro dell'universo perché lo siamo veramente dentro abbiamo un universo e la la quantità di coraggio è infinita la mia definizione di coraggio è è il fatto di conoscersi il fatto di credere in se stessi il fatto di immaginare di essere illimitati non esistono non esistono limiti dentro di noi e questo non vuol dire che vado sopra a un palazzo e mi butto giù perché lì poi c'è anche la paura e c'è anche altre emozioni il coraggio significa avere la voglia e la volontà di andarsi a scoprire pian piano alzare pian pianino il proprio limite con con coscienza e con coraggio e a me a volte devo ammettere mi piace superare no un po quella quella percentuale dell'asticella del limite mi piace un po andare oltre ma devo dire che lo faccio sempre in modo molto coscienzioso e per esempio la via francigena mi ero impostato cinque tappe per c nove step da cinque tappe ho riconosciuto i miei limiti a volte non ci sono riuscito e ho riconosciuto di dovere tornare di tornare anche a casa è una risorsa che amo amo tantissimo e tante volte mi piace anche affrontare no le cose di coraggio con con il sorriso ma sempre legato a quello che ho detto prima luca il fatto di dire ho creato alla base una un cuscino molto molto resistente che se non ci riesco la protezione e non mi importa non non mi importa perché sono consapevole che ho alzato molto no la mia la mia asticella e poi abbandonare anche quella parola del del fallimento e consapevole di avere dato il cento per cento ecco perché l'obiettivo ben formulato e soprattutto a me piace anche lavorare su sulla ruota dell'imprenditore dell'atleta del nuotatore del ciclista non importa dello dello studente perché i dettagli fanno la differenza e hanno bisogno di un certo lavoro cioè andare a individuare individuare tutte quelle caratteristiche che compongono il nostro obiettivo se noi andiamo a lavorare in modo consapevole conscio in tutti gli aspetti a oltre che a diminuire molto la percentuale del fallimento abbinato alla costruzione dell'obiettivo ben formulato se non dovessimo riuscire a raggiungere l'obiettivo ci facciamo meno male ci siamo divertiti siamo consapevoli che abbiamo dato il cento per cento e siamo pronti per già mentalmente siamo pronti per andare a individuare quali sono quegli aspetti che da migliorare no per un futuro obiettivo e quando l'hai fatto una volta l'hai fatto due l'hai fatto tre hai creato l'abitudine paradossalmente ci rimane sempre meno male perché la mente già proiettata non a rimanerci male ma è abituata non solo a fermarsi a quell'obiettivo ma dopo un secondo per modo di dire un giorno una settimana ok a segua ti dico alzo ancora un po di più l'asticella perché da tutto quello che ho imparato in quell'obiettivo ho capito quali sono gli aspetti da approfondire gli aspetti nuovi da migliorare o da creare da zero che tra un anno e due mi pongo un abiettivo ancora più in alto ancora più in alto ancora più in alto questo è un po il concetto del 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 coraggio proprio a bruciapelo poi dovessi pensarci un'ora due tre niente altro no no ma di ascoltarsi secondo me impariamo impariamo ad ascoltarsi che ripeto quello che vedrete per chi vorrà su internet di quello che faremo tutti i riferimenti andrea dopo che scriveremo in chat si gran parte c'è questa capacità di ascoltarsi e a un certo punto dire mi fermo riconosco in questo momento riconosco il mio limite ma che non è il limite per sempre è il limite in quel momento e quando io mi sono fermato per la via francigena perché mi spostavo in treno e ritornavo in treno c'era la delusione di non averla sì c'era la delusione ma l'obiettivo il mio pensiero era ok mi sono fermato per cosa mi sono fermato per le visciche alle mani come posso risolvere alla tappa dopo arrivavo con la soluzione perciò è un continua crescita che poi mi hanno portato anche a realizzare insomma un prodotto di cui vado particolarmente orgoglioso è che tra poco ne parleremo parleremo anche i tuoi progetti allora ho una domanda di alberto che saluto che ha già detto un sacco di cose e lo ringrazio perché partecipa chiama diciamo scrive da cuneo è un camminatore che si è fatto un sacco di viaggi anche una persona interessante la conosce poi ti fa una domanda che ti farò fra un secondo sì e dopo saluto anche l'amico joe black dimmi pure no ma la mia era più che altro una battuta perché mentre tu parlavi a proposito di coraggio mi viene in mente una frase che credo che sia di pessoa che diceva porto ancora le ferite delle battaglie mai combattute e quelle non si rimagineranno mai no quindi che nel momento in cui ti impegni ti fai di tutto per arrivare a un obiettivo chiaro che ti dispiace non raggiungerlo o ti dispiace doverti fermare ma hai appreso talmente le tue corde ti sei impegnato hai ti sei conosciuto hai diciamo sei comunque diverso c'è il tuo viaggio comunque ti ha portato qualcosa di diverso e quindi non è male soprattutto negli sport dove si va adesso il caso di un cammino cioè è un obiettivo però un cammino con una gamba due stampelle è importante ma un altro discorso per esempio quando ti misuri con altre con altre persone dove se tu vai una gara e siete in cento tutti più o meno sono lì per vincere e 99 saranno scontenti perché vincerà sempre uno perciò è anche importante capire il proprio livello ecco perché tra le tante cose che ambisco proprio come me lo pongo come inizialmente obiettivo personale poi lo condivido anche con loro se abbiamo costruiamo l'obiettivo parallelamente costruiamo anche l'obiettivo che ci porti a raggiungere la nostra eccellenza perché poi bisogna anche riconoscere molte volte quando dico io mi stavo mi stavo allenando per qualificarmi all'olimpiadi e tanti miei amici no perché poi i tuoi fans ti vedono te come tu vincerai primo e io lo dicevo ragazzi io sul podio se vado all'olimpiadi non ci arrivo ma non è e lo dico perché non ho sbagli perché demotivante non è demotivante è guardare in faccia alla realtà non è devo dio non mi do motivo pensando di non arrivare a loro all'olimpiadi io non mi devo motivo perché io so costruire gli obiettivi personale e quanto costruisco l'obiettivo per me è già guardando il fatto che non ho mai fatto cano olimpica gareggio contro trentenni e io non ho 47 quando sarei dovuto andare all'olimpiadi che lo fanno da 25 anni io mi alleno da un anno in modo molto specifico loro lo fanno da 25 loro possono pagaiare in piedi io quasi quasi mi rovescio da seduto il fatto di dire costruisco per me l'obiettivo a vincere le olimpiadi non è reale quello non è l'obiettivo ecco perché ho fatto anche un video sul mio canale da sogno a obiettivo perché sono due cose completamente diverse ecco che se io porto le olimpiadi il mio sogno ecco che sono talmente in alto che la rete di cui parlevamo prima non sopporta il mio peso da quel sogno ma se io costruisco l'obiettivo e non lo centro quella rete sopporta il mio peso perché l'ho costruito in base alle competenze all'abilità che io andrò alle olimpiadi ma se io porto l'al sogno ancora prima di prendere l'aereo so che mi scotterò perché non ho i numeri soprattutto perché cosa soprattutto per quegli sport come la canoa come l'atletica dove c'è un cronometro dove c'è una distanza dove c'è se invece tu mi dici un cammino mi dici una gara ciclistica allora li cambiano già le cose perché una gara ciclistica è formata da tanti fattori ma dove tu hai una distanza di salto in lungo come joe black ha un peso da lanciarlo una tua distanza sai già più o meno poi magari può imbroccare la giornata top dove lo lanci cinque centimetri più in là poi magari ma se per arrivare primo ti ci mancano un metro un metro e mezzo c'è una distanza di nove metri cioè io la vedo un po difficile migliorare la tua performance del 20 per cento in una gara sola ecco questo è importante proprio poco poco probabile tantissimi chi arriva alle olimpiadi sa che i cinque centimetri su nove metri possono fare possono fare la differenza ecco guarda allora io torno dal nostro amico alberto che da cuneo tanto ti fai complimenti gli piace un sacco quello che stai dicendo e fa una domanda interessante dice ma qual è il segnale che a proposito di percorsi di coaching qual è il segnale che ricevi e che ti dà l'idea che il percorso di quella persona è terminato ammesso che ci sia un segnale ammesso che ci sia una fine ma molte volte viene viene definito nel nel caso per esempio dell'olimpiadi della definizione dell'obiettivo molte volte viene il percorso finisce quando si segue un obiettivo ben preciso con una data ben precisa e in quel momento si arriva in quella data e poi finisce tante volte l'obiettivo a una data ma anche banalmente di un mese o due mesi dove si raggiunge una un equilibrio dove si è per esempio si è deciso di superare come diceva prima elisa i pensieri dei motivanti ok io non vorrei più pensare con dei pensieri dei motivanti e qui tante volte la data che ci poniamo può essere più lunga o più corta quando per esempio rimane l'unico obiettivo e dal punto di vista mentale abbiamo acquisito l'abitudine che oramai i pensieri dei motivanti negativi ci sono ancora ma la persona riesce a gestirli il mio lavoro è finito io non voglio continuare cioè l'ultimo diciamo così l'ultimo step che è il mio obiettivo da coach è quello della trasformazione io non voglio avere persone che sono dipendenti dalla mia conoscenza l'ultimo step è quello della trasformazione vieni da me per imparare le visualizzazioni dominare i tuoi pensieri io ti ti voglio ti guido in base anche al tempo che tu dedichi perché ricordiamoci che allenamento mentale alla fine avviene questa trasformazione che tu poi dopo devi camminare con le tue gambe se poi dopo da lì capisci che ci sono altri aspetti della tua vita da migliorare ti piace essere seguito perché comunque io sono il primo ad avere cioè quando ho aperto la mia srl dal punto di vista e sono diventato imprenditore per costruire le stampelle la prima cosa che ho fatto è andare da un amico e essere seguito come coach perché lui si occupa di business coaching e mi ha dato una grossa mano e ogni tanto lo chiamo dice ripeto io non lo non sono mai stato seguito da un coach anche perché tornando dietro 30 anni era neanche neanche c'erano quando noi capiamo che vediamo che dopo un mese due sei mesi non progrediamo su un qualcosa affidiamoci a una persona che ha le strategie e le tecniche per riuscire a superare perché è un investimento che ripaga anch'io inizialmente quando ho cominciato a fare questi corsi dicevo sempre sono un costo io penso che siano stati il più grosso investimento che abbia mai che abbia mai fatto perché c'è una frase bellissima che dice chi non si forma si ferma ed è veramente deve diventare un mantra la nostra ecco perché anche dietro io continuo a comprare libri perché non fermatevi ma il bello anche oggi iniziare non significa andare dei corsi che costano migliaia migliaia di euro molto banalmente cominciate ad acquistare dei libri poi dopo affiancatevi a un coach e poi andate anche ad affrontare dei corsi che costano ma arrivateci mentalmente preparati perché altrimenti rischiate anche di quello che ho vissuto io sulla mia pelle io ricordo il mio primo corso di pnl perché faceva parte di un percorso per diventare coach io alla fine del quarto giorno ero in macchina con un mio amico io ho detto ragazzi io non ho capito niente niente ma perché questo perché io non avevo io arrivavo da 18 anni di responsabili di produzione non avevo mai sentito parlare di accessi oculari la pnl ma c'è per me era tutta roba era troppa roba in poco tempo troppa roba in poco tempo ma affidarsi a un po vediamo che non facciamo non abbiamo miglioramenti la trovo la trovo una figura molto molto efficace anche con gli strumenti che ci sono one to one o anche attraverso come stiamo facendo noi con skype può essere veramente di grande 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 aiuto e vi permette di bruciare le tappe di fare perché ovviamente questi professionisti hanno acquisito delle competenze delle 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 abitudini e delle delle diciamo delle delle competenze appunto che insomma possono farvi fare dei salti e non aspettando tanto 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 tempo e piace l'idea della cassetta degli attrezzi che peraltro è un titolo di un percorso che faccio fondamentalmente non facciamo altro che dare attrezzi infatti quando prima all'inizio parlavi del motivatore a me fa ridere no quando ti chiedono ma tu cosa fai di lavoro ma io faccio questa sei un motivatore non solo motivatore è molto motivatore molto nome non piace ovviamente anch'io in qualche cosa scrivo motivational speaker ma quando quando l'azienda il corso eccetera ne chiama per uno speech di mezz'ora un'ora allora io lì mi preparo come ti sono anche però sono speech dove fanno parte di un percorso molto più lungo cioè è un particolare di un corso dove le persone magari non se ne accorgono nemmeno ma alla fine poi avviene questa trasformazione sono sono quei picchi emozionali dove dopo ecco perché qui anche il bello del nostro lavoro perché è lo studio no che c'è dietro del del percorso che a un certo punto ti mettono andrea che ti fa lo speech motivazionale ma poi dopo il qui il trainer va a lavorare su quello che ha detto andrea per farti perché se alla fine la persona non la porti a una trasformazione che cosa rischia rischia che finisce la giornata due giornate tre giornate di formazione sale in macchina si ferma al primo otro grill e poi finisce tutto e questo non è e questo non è non è buono non è assolutamente assolutamente senti andrea mancano pochi minuti quindi voglio dare spazio ai tuoi progetti sì un minuto che saluto joe black che ci scrive la cosa che joe black è giuseppe campoccio e tra un altro e saluto ciao ciao è un atleta parolimpico con già in tasca il pass per le olimpiadi per le parolimpiadi di tokyo oramai 2021 nei lanci perciò insomma è un personaggio famoso e lui ci scrive la cosa più difficile è imparare a dover chiedere aiuto un percorso formativo lungo da da metabolizzare perché tante volte anche chiedere aiuto al coach può farti pensare dire cauli non ci riesco da solo sono invece è assolutamente umano perché è la stessa identica cosa di quando noi in questo caso l'atleta va da un massaggiatore va da un preparatore va da un allenatore mettiamoci nella testa che non sappiamo fare tutto anzi sto leggendo un libro bellissimo dove testimonia che le più grandi più grandi personaggi dagli imprenditori dai dei presidenti non sono capaci di far tutti sono anno 998 debolezze ma le due cose che sapevano fare bene le hanno proprio rese grandi nelle altre 998 si sono o le hanno lasciate andare perché non erano capaci di farle o altrimenti hanno chiesto aiuto ma la cosa che sapevano fare forte l'hanno resa unica in tutto il mondo e poi dice che le nostre strade torneranno di incontrarci e ci racconteremo ancora questo per dire che abbiamo già fatto un'intervista e il viaggio interiore è quello più difficile ed importante da fare per raggiungere il risultato di un sogno ecco qua grazie giù grazie giù grazie mille del tuo intervento e tanta roba andrea tanta roba tanta roba io credo che chiedere aiuto sia una grande libertà al poterselo no poter potersi permettere di chiedere aiuto sia una grande conquista di libertà ecco pensavo questo io ho notato anche questo che il chiedere aiuto dipende anche da dalla da quanto il tuo obiettivo sia vero no da quanto tu creda un attimo la mia piccola mia un attimo la salutiamo tutti che ha partecipato anche lei alberto nuovamente dice che formarsi vuole anche dire tipo partecipare dirette tipo questa perché effettivamente uno può formarsi con gli strumenti che abbiamo può imparare da tante cose dei libri c'è youtube ci sono queste dirette che c'è pieno in questo momento qui sono tanti modi per potersi da me ormai mettersi in gioco ma sai luca come dicevamo prima anche il fatto dei delle azioni di quei mattoncini cioè il fatto di scegliere di guardare la ruota della fortuna non me ne vogliano a sentire parlare persone e che che instaurano argomenti anche di crescita è comunque è comunque un'azione che può essere anche banale però può essere anche l'iniziazione di qualcuno perché magari è stato l'inizio per capire che c'è molte volte nelle scuole in un'ora e mezza due non è che tu stravolgi la vita però getti un seme che poi sta la responsabilità di ogni ragazzo poi tutti i giorni a innaffiarlo anche nei corsi di formazione noi possiamo spendere anche 5 mila euro di un corso ma se quando arriviamo casa il tutto tutto il manuale o libro che ci hanno dato lo mettiamo sul sul comodino cioè non funziona non funziona non funziona l'approccio amazon non funziona voglio una cosa ma arriva domani bisogna essere un po più contadini ecco bisogna tornare un po più guardare al no al curare io faccio l'esempio del campo e poi chiudo se abbiamo un campo grosso come il abbiamo la possibilità dentro con un campo da calcio ma seminiamo e innaffiamo nella nell'area piccolina non possiamo pretendere di raccogliere in tutto il campo raccoglieremo lì e non dipende dagli altri assumiamoci la la responsabilità attraverso le nostre azioni di andare sempre più a seminare lontano poi potremmo star qui parlare fortissimo perché poi anche le metafore sono bellissime perché anche il getto pian pianino ha bisogno pian pianino di una canna più grande di una jet di una quantità ad h più grande dobbiamo spostarlo c'è un mondo c'è un mondo la cosa importante è non pretendere di partire dall'area piccola e innaffiare già in fondo godetevi il percorso e godetevi anche pian pianino che a dire guardandovi indietro anche un mese due o sei mesi dire sai che ero nell'area piccolina e adesso comincio a vedere già l'erbetta anche fuori da questa ma cosa ho fatto fatto questo questo e documentate lo scrivetelo scrivetelo perché è un dio tengo tutti i fogli che scrivo perché è un eredità incredibile cambia la vostra scrittura cambiano le vostre metodologie cambiano cambiate proprio voi dentro e di guardate indietro un anno due di dire cavoli ma io ero io i primi corsi dove sono andato prendere i manuali è quasi non dico imbarazzante però dico sono cambiato e dalla e dal punto di vista della motivazione è importantissimo perché quello vi motiva e quella è l'auto motivazione che non c'è più il coach o l'aneatore è l'auto motivazione e è l'aspetto più importante arrivare ad auto motivarci è un altro dei miei obiettivi c'è auto motivare una persona è una cosa fantastica da raggiungere ma guarda io torno al concetto di libertà di prima siccome è una conquista di libertà è una è un'evasione ecco un'evasione vera e propria definitiva e andrea abbiamo due minuti perché altrimenti dopo facebook ci bacchetta detto grande che hai che insomma che fra qualche mese realizzerai puoi parlare sì dopo sono tante cose comunque molto brevemente allora partirò per il mio terzo cammino che poi è il quarto perché il primo effettivo è stato link a tre in perù per raggiungere il machu picchu parterò per la via postumia il 21 agosto da grado per attraversare poi aquilea treviso verona lago di garda cremona casa mia perché passa qui a 300 metri poi a raggiungere genova il 17 ottobre perciò racconteremo la nostra italia attraverseremo le zone più colpite dal coronavirus incontrerò persone chiunque voglia partecipare ci chiami c'è il mio sito c'è qualsiasi ci sono mille modi per partecipare posso venire a trovare fare qualche giorno insieme a te tutto quello che volete un giorno una settimana tutto il cammino secondo me qualche giorno riesco a farlo guarda e anche per chi comincia magari scrivetemi abbiate come abbiamo parlato prima abbiate coraggio è più semplice di quello che possiate pensare ovviamente un minimo di allenamento un minimo di equipaggiamento attenzione al peso dello zaino che è importante ma buttatevi abbiate coraggio è più facile di quello che sembra e poi da lì si apre un mondo perché il cammino è un mondo e qui hai toccato un tema che sai che mi coinvolge parecchio e mi fermo qui a proposito tra l'altro c'è francesco che dice luca tu quali sono le tue esperienze riguardo io mi fermo qua perché al momento sono l'intervistatore quindi non parlo delle mie esperienze voglio dare spazio agli ospiti perché a proposito di apprendimenti e di e di decidere no se fare se guardare appunto no canale cinque per dire una piuttosto che avete quattro comunque guardare una striscia serale guardare queste cose che facciamo è che in questi momenti non sai mai quello che può venire fuori a me è capitato di sentire una parola che non dico che mi ha cambiato la vita ma mi ha fatto iniziare un sentiero e questi sono luoghi dove questa cosa magica accadono accadono nelle aule accadono nei coaching accadono anche in queste cose interviste quindi la faccio veramente molto volentieri apprendo tanto da chi da chi partecipare c'è un mondo c'è un mondo da tante volte è bello anche perché nei corsi di formazioni che durano due tre giorni poi alla sera molte volte vuoi riempire no il tutto il tempo che invece la sera dopo cena bisogna nascono di queste chiacchierate che durano fino a mezzanotte luna che forse diventa quasi la parte più importante ma perché perché raccogli quello che è seminato durante la giornata e le persone si aprono che poi è il mio scopo quello di lavorare con le persone il giorno dopo è quasi tutto in 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 discesa è un bel mondo è un bel mondo è un bel mondo è un bel solo la volta godendolo il più il più possibile perché dentro di noi siamo siamo tanta siamo tanta roba e se non ci piace qualcosa in questo momento non si dice domani boh ci licenziamo no come ho fatto anch'io io ci ho impiegato tre anni perché per il coach però in quei tre anni lì tutto stava pian pianino cambiando perché io mi accorgevo che stavo cambiando l'ambiente frequentavo persone professionisti imprenditori che vi guardavano il futuro per imprenditori che avevano difficoltà persone che però l'avanti 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 finché a un certo punto sono nate è passato quel ci siamo ci siamo perso anch'io 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 e niente potremmo star qua si parla volentieri andrea ecco lo facciamo ci ritroveremo allora ti strappo la promessa di tornare a trovarmi dopo questa esperienza ma prima non stavo scherzando mi stavo quasi pensando di ritrovare qualche giorno perché poi passi casa mia perché tu sei di casa il maggiore io vengo dalla bassa di parma quindi siamo dalla parte opposta del po e quindi siamo vicino a piattenza diciamo e qui vabbè ci sto pensando e quindi avremo modo anche di parlarne in autunno sarebbe bene allora io intanto ti ringrazio veramente tanto grazie per la tua esperienza di aver accettato di insomma di averci raccontato tutte queste cose ringrazio i partecipanti che hanno fatto domande hanno hanno diciamo hanno ascoltato quello che secondo me è stato un momento di crescita per tutti cioè io perlomeno mi sono appuntato due o tre cose che hai detto che le userò in primo luogo per me come ti ho detto no in questi spazi non sai mai quello che succede tengo fuori due ragazzi interessanti che che dei punti di vista che non non coglievi quindi veramente di questo ti ringrazio tanto a tutti gli altri rinnovo l'appuntamento per la prossima evasione che sarà martedì prossimo e il martedì prossimo avremo uno scrittore maledetto avremo francesco grasselli che ha scritto una serie di libri curiosi tipo all'inferno vado in porsche ho scaricato miss italia per arrivare all'ultimo che si chiama tromba d'aria quindi titoli molto provocatori ma che realtà contengono una visione no della della società è di un certo tipo di società molto interessanti e lui soprattutto è un personaggio quindi invito tutti a partecipare perché sarà un altro momento formativo non mancherò neanche io ti aspetto con grande piacere così come aspetto tutti gli altri buona serata grazie aver partecipato alla prossima ciao grazie ciao andrea ciao ciao ciao